Ah regà, buongiovi! Oggi carbonara tartufo. Prima cosa il guanciale, prima a pette e poi a listarelle. Via a sudare in padella fin quando non diventa croccante, dopodiché lo mettiamo ad asciugare. Metà ce lo andiamo a tritare. Tuorlo dopo, pasta gialla, pecorino romano deve avere questa consistenza e pioggia di pepe nero. Filtriamo il grasso del guanciale e caliamo la pasta. A metà cottura andiamo a risottare, passiamo quindi in padella e continuiamo ad aggiungere acqua fin quando la pasta non sarà cotta. Gli ultimi due minuti aggiungiamo il guanciale croccante e facciamo saltare insieme. Spegniamo il fuoco, facciamo raffreddare un minutino, dopodiché aggiungiamo la nostra carbocrema. Amalgamiamo bene il tutto, dopo prendiamo un bel tartufo nero pregiato dei nobili d'acqua lagna e lo andiamo a grattugiare direttamente nella carbonara. Ma che profumo fa! Andiamo all'impiattamento della nostra carbonara, affiniamo il nostro tartufo alla mele direttamente sulla pasta, un po' di cremina. Ragazzi, provatela e schinatevi! Grazie!